L'ocra gialla, il pigmento più utilizzato in assoluto, presenta doti di elevata porosità e di assorbimento all'emulsione. Sono da evitare nella pittura le cosiddette ocre d'oro a causa della predilezione per colori neutri non eccessivi. Se emulsionato questo colore è sufficientemente trasparente. L'ocra rossa o sinopia, colore molto versatile nell'utilizzo. È un pigmento con caratteristiche simili all'ocra gialla. Si emulsiona però più facilmente e presenta una migliore trasparenza. Concludiamo con la terra verde o verde brentonico. È un pigmento decisamente più poroso e capace di assorbimento della media. Si emulsiona quindi con una certa difficoltà, per cui occorre, oltre all'aggiunta di uovo in quantità maggiori, mescolare a lungo fino alla scomparsa di parti solidi in sospensione. È emulsionato e molto trasparente. Grazie a tutti.